e sempre per l'esclusiva delle tele cinghiale abbiamo la piscina olimpionica di mio cugino oggi hanno montato un aspirapolvere in questa piscina che serve a cacciare i ranunghi da dentro la piscina perché la piscina ha subito un'invasione cronica dei ranunghi notate le spiegazioni che vengono date a mio cugino per tenere pulita questa bagnarola ambulante che ha messo qua che ogni anno è un candiere come la salerno reggio questa cosa tutto tutto sa piscina come la salerno reggio calabria sempre in interruzioni e non funziona mai devo fare un bagno la televisione andiamo a vedere qui sopra vediamo daniele lottazzi in compagnia di altri amici e questa è la villa marialba di mio cugino tonino dove si deve dare il 4 agosto il compleanno dei 50 anni di mio cugino video della televisione due minuto quando faccio un altro minuto di fermino ci è voluto una settimana per riempire di acqua questa piscina 20 giorni per pulirla un mese per tutte le operazioni e a settembre poi faremo il bagno quando piove in pieno autunno c'è mio cugino che sta operando totò ve ne vede la foto di figlia ma grazie ve ne vede la foto grazie oh è pronta la tua visione e tu che fai io ho lavorato per la moduna fattene un cazzo notate la grande professionalità del signor daniele lottazzi nonché nel componente della jet band già ripreso su youtube in coppia con il signor la resta se vuoi prenderne potremmo ieri grazie grazie grazie